se sei arrivato a questo video è perché probabilmente hai visto la storia che abbiamo fatto e ti può interessare l'argomento show service music contest che cos'è sulla falsa riga di quello che show service ha organizzato anche l'anno scorso quest'anno proponiamo una settimana di musica dal vivo musica live per chi fa musica indipendente per chi fa musica inedita il music contest non è altro che praticamente una settimana appunto di concerto trasmesso in streaming sulle varie piattaforme social di show service chiaramente e anche delle band che parteciperanno al contest il contest avrà luogo nei primi giorni dell'anno del 2022 le date sono ancora chiaramente in fase di organizzazione ma stiamo iniziando a raccogliere le adesioni per questi cinque giorni di musica trasmessa in live stream l'evento chiaramente è ad impegno gratuito per quanto riguarda show service che mette a disposizione tutte le attrezzature per creare una situazione da palco e quindi può essere molto interessante per le band per esibirsi e provare i loro pezzi bene ragazzi scrivete a show service 2 chiocciola gmail.com con i vostri riferimenti vi ricontatteremo e vi daremo tutte quelle che sono le informazioni per l'iscrizione eventuale al show service music contest ciao a tutti